Da tempo ormai gira voce che alcune delle ossa dell'attrazione di Pirati dei Caraibi siano veri resti umani. Nel 2014 un giornalista ha chiesto spiegazioni ad un dipendente mentre visitava l'attrazione e lui non ha negato. Sotto ai parchi divertimento c'è un enorme sistema di tunnel sotterranei il cui scopo è mantenere viva la magia del luogo. Li usano infatti dipendenti per entrare e uscire ovvero quando non sono in costume. Disneyland rilassa strategicamente un aroma di vaniglia attraverso odorizzanti che sembrano altoparlanti. Il motivo è che è scientificamente provato che sia un profumo che calma i visitatori e gli fa venire fame. In questo modo spendono più soldi ai ristoranti.